Appassionati di fotografia ben ritrovati, qui Matteo Berardi. La fotografia panoramica è certamente la più diffusa e immediata da realizzare. Basta infatti un bel paesaggio di fronte a te e la luce giusta per ottenere risultati molto soddisfacenti. Ma in realtà questa tipologia fotografica presenta molte più sfide di quanto si pensi. Certo, degli osservatori inesperti potrebbero non cogliere tutti i piccoli grandi errori commessi in fase di scatto, ma un osservatore più navigato lo farebbe sicuramente. Per questo, come sempre, non possiamo lasciare nulla al caso. Bisogna curare ogni minimo aspetto allo scopo appunto di ottenere dei risultati sempre perfetti. Questo video quindi ti servirà proprio a questo. E quindi ora vediamo insieme gli 8 consigli fondamentali per la fotografia panoramica. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale qui in basso, attivando poi le notifiche per essere sempre informati sull'uscita di un nuovo video. Questo è il più classico degli errori da principiante, ovvero scattare una foto senza però accorgersi che l'orizzonte pende da una parte. Questo errore è certamente quello che ogni fotografo ti farà notare, diciamo, al primo sguardo. Quindi cerca di stare attento. A volte però diciamo che potrebbe essere difficile accorgersi di piccole angolazioni errate ad occhio nudo, mentre appunto si cattura l'immagine. Per questo ci viene in soccorso la griglia della fotocamera dell'iPhone, la quale fornisce un'assistenza visiva direttamente appunto sullo schermo. Se posizioni infatti l'orizzonte parallelamente su una delle linee orizzontali della griglia, ti risulterà molto più facile ottenere un risultato corretto. Se poi anche utilizzando la griglia ti ritrovassi con un risultato storto, non temere comunque. Infatti per aggiustare questo tipo di situazione, ti basterà semplicemente un pizzico di editing nella tua foto. Questo in realtà è un consiglio validito diciamo a qualsiasi tipo di scena. Questo perché la luce del sole nelle ore di massima intensità crea delle ombre dure e dei fortissimi contrasti. In aggiunta poi tra l'altro potresti anche ritrovarti del lens flare che andrà a peggiorare ulteriormente la situazione. Meglio quindi aspettare scenari come l'alba o il tramonto in modo tale da godere di colori bellissimi e luci soffuse ideale appunto per la tua foto panoramica. In questi momenti poi ti sarà davvero facile creare delle interessanti foto silhouette, un genere davvero accattivante e molto usato. Ovviamente questo consiglio non è sempre diciamo di immediata applicazione. Non devi per forza uscire in macchina, fare centinaia e centinaia di chilometri solo per trovare diciamo il cielo giusto. Semplicemente devi accorgerti di quando si stanno per creare le condizioni ideali per il tuo scatto. Magari rimandando la foto al giorno successivo. Questo perché nella fotografia panoramica il cielo ovviamente ha una grandissima importanza essendo diciamo parte del soggetto mostrato. Una splendida vallata con un cielo perfettamente azzurro e limpido spesso perderà parte del suo fascino. Il sole che fa capolineo dietro le nuvole invece, creando quindi dei fasci luminosi, sarà invece un valore aggiunto. Quindi se vuoi scattare al tramonto o all'alba, le nuvole saranno poi un tuo validissimo alleato. Mi riferisco diciamo al classico cielo a pecorelle, il quale creerà dei bellissimi effetti visivi e dei giochi di colori all'interno della scena. Se poi non trovi quello adatto comunque abbiamo un video sul canale dove parliamo appunto di come sostituire il cielo in una foto con uno che è però molto più interessante, con un cielo molto più interessante. Quindi mi raccomando vattela a guardare. La profondità nella foto è un elemento che è troppo spesso, viene ignorato dagli aspiranti fotografi, ma comunque non solo. Creare un'immagine che appare bidimensionale diciamo non aiuta l'osservatore a sentirsi coinvolto nello scatto. Aggiungere degli elementi in primo piano invece darà una percezione delle distanze e della grandezza della scena. Di quali elementi però stiamo parlando? Beh, ad esempio dei fiori, un po' d'erba, un soggetto umano, un animale oppure delle rocce. La verità è che puoi metterci davvero qualsiasi cosa che sia fotogenica e coerente con la scena. Evita però con il tuo primo piano di andare ad occupare una porzione troppo ampia dell'immagine. Altrimenti sarà un disturbo piuttosto che una miglioria. Oltre a questo, per ottenere il medesimo risultato, potresti utilizzare delle linee guida. Le linee guida di cui parlo sono quelle presenti all'interno della scena create da alcuni elementi fisici, come ad esempio strade, ponti, magari la costa con delle linee frastagliate, oppure dei tronchi d'albero, o comunque qualsiasi cosa che da te si diriga verso l'orizzonte. Questo elenco ovviamente può estendersi all'infinito. Persino delle penne appoggiate su un tavolo, diciamo, possono creare delle linee guida se fotografate ovviamente da vicino. Quindi, come sempre, apri la tua mente, utilizza l'ingegno ed inizierai a scorgere grandi opportunità fotografiche dietro ogni angolo. I soggetti guidano l'occhio dell'osservatore facendogli capire immediatamente di cosa si parla nell'immagine. Aggiungendone uno, aiuterai a far comprendere meglio quindi la scena, mentre senza di esso gli occhi di cui guarda inizieranno a vagare senza un vero punto di riferimento su cui fermarsi. I migliori soggetti per una foto sono le persone e il perché comunque è piuttosto semplice da capire. Infatti noi siamo esseri umani, tra l'altro empatici, ed osservare un altro essere umano nella scena aiuta a immedesimarsi in esso, il che catapulterà l'osservatore dentro l'immagine aiutandolo a provare maggiori emozioni. In aggiunta, avere come riferimento una persona darà un'idea in termini di dimensioni. Infatti, se vedi un albero in mezzo ad una radura, puoi avere dei dubbi su quanto sia alto, non riuscendo a capire alla perfezione quindi il contesto generico. Mentre invece, se posizioni una figura umana accanto di esso, sarà facilissimo farsi un'idea delle proporzioni presenti nella scena. La regola dei terzi deriva da studi approfonditi sulla psicomana. Già parecchi anni fa, infatti, venne dimostrato che gli osservatori non pongono la medesima attenzione ad ogni zona dell'immagine. Esistono invece dei ponti ben precisi, detti focali, che andranno quindi a catturare maggiormente l'occhio delle persone. Per sfruttarle al meglio, dovrai fare in modo di posizionare il tuo soggetto direttamente su uno di questi quattro punti. Nel caso di un panorama, poi, sarebbe consigliabile far combaciare la linea dell'orizzonte con una delle due linee orizzontali, come ti abbiamo detto anche nel primo consiglio di questo video. Le immagini troppo complesse, senza un vero soggetto e confusionarie sono, come sempre, di difficile interpretazione. Cerca quindi di rimanere sempre sul semplice, sul minimalista, catturando quindi un soggetto chiaro in contesti lineari. Un albero che spicca da solo in mezzo ad una radura sarà meglio di cinque che ti intasano la scena. Specialmente se sei alle prime armi, comunque, evita di strafare. Un'altra cosa che, se esagerata, può creare confusione è la presenza di colori. Infatti, avere molte tonalità, tra l'altro molto accese, renderà l'immagine un vero casino sotto il punto di vista cromatico, con l'occhio quindi che non saprà più cosa guardare per primo. Se invece li userai per dare maggiore valore al tuo soggetto, si riveleranno un validissimo alleato per la tua fotografia panoramica. Sai che tra le modalità di scatto hai anche l'opzione panorama? Immagino di sì, comunque, perché è davvero molto usata. Infatti, grazie a questa modalità, potrai scattare una serie di foto che poi il software andrà ad incollare una vicino l'altra, creando un effetto panoramico. Per eseguirla al meglio, seleziona panorama e poi piggia il tasto di scatto. In seguito, muoviti nella direzione indicata dalla freccia nel modo più fluido possibile, senza troppi scatti. Cerca quindi di mantenere le braccia ferme e rigide, in modo tale da evitare che il risultato presenti imperfezioni. Mi raccomando, però, se vuoi mantenere alta la qualità della tua fotografia panoramica, devi evitare, in questo caso, di catturare degli elementi troppo in primo piano, perché essi, ovviamente, verranno distorti dalla modalità panorama. La fotografia panoramica, insomma, ragazzi, è davvero soddisfacente, è sicuramente una delle mie preferite, oltre che, tra l'altro, molto interessante in generale da vedere. E grazie a questi consigli di questo video, potrai ottenere dei risultati davvero fantastici. Studia sempre l'ambiente che ti circonda, non accontentarti del primo risultato e cerca sempre la perfezione. Se hai qualsiasi domanda da farci, scrivici comunque per un commento qui in basso e ti risponderemo il prima possibile. Se questo video ti è stato utile, la migliore ricompensa che ci puoi dare è quella di metterci un bel like come segno d'apprezzamento e di iscriverti subito al nostro canale YouTube, ma su anche tutti gli altri social, come ad esempio Instagram, sulla pagina Facebook e su anche la nostra community Facebook. Così potrai partecipare al nostro contest fotografico da iPhone. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare ed invece sai quando incominci a conoscerla più a fondo scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ed ora ti faccio una domanda, vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie, ti invito ad iscriverti al corso gratuito da zero a fotografo iPhone che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo decisivo per diventare un fotografo iPhone migliore. All'interno di questo corso di tre lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia ad iPhone. Iscriviti subito al corso gratuito trovi il link qui in basso nella descrizione. Ci vediamo sul prossimo video e ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che è sempre con te. iscriviti al corso gratuito